Signora Presidente, signori, come sapete il Consiglio dei Ministri si è accordato questa mattina di richiedere formalmente al Governo della Generalitat di confermare se ha dichiarato l'indipendenza della Catalogna al margine della deliberata confusione che si è creata sull'entrata in vigore. Questa richiesta che esiste ai sensi dell'articolo 155 della nostra Costituzione vuole offrire ai cittadini la chiarezza e la sicurezza che ha bisogno una questione così importante. E' la risposta che il signore Pige Mon, che darà a questa richiesta, ci dirà che cosa succederà nei prossimi giorni. La questione è tornare alla normalità, alla normalità istituzionale, come tutto il mondo sta chiedendo. E questo potrà finalmente annullare questa instabilità che esiste in Catalogna. I governanti della Catalogna, principali rappresentanti dello Stato in quel posto, hanno presentato la loro posizione per perpetrare un attacco sleale e pericoloso contro la nostra Costituzione e la stabilità della Spagna e lo statuto stesso della Catalogna, ma peggio ancora contro la convivenza pacifica tra cittadini. Qualcosa che nessun governante responsabile potrebbe fare. Grazie a tutti.